ariete periodo di vita movimentato per voi attivi e caricati di energie un periodo forse un po' tumultuoso ma ricco anche di emozioni sentimentali toro buoni stimoli mentali arrivano per condurvi verso interessi intellettuali e creativi mentre si armonizzano le vostre sensazioni e riemerge la vitalità gemelli il tono vitale un po' basso al palenante e qualche idea confusa potrebbero compromettere queste giornate che in realtà vedono il favore astrale soprattutto in merito all'amore cancro sentimenti contrastanti lavorano nel vostro intimo lasciandovi qualche dubbio da chiarire nella sfera sentimentale buone opportunità invece nei contatti di lavoro leone un cielo astrale di grande forza e ricco di emozioni amorose prepara il terreno per alcune vostre scelte che nascono sotto ottimi auspici vergine il momento non è di grande effervescenza accontentatevi della vostra quotidianità e cercate di non prendere abbagli nelle relazioni e nel lavoro bilancia le configurazioni astrali che vi riguardano possono sottoporvi ad un periodo di stress un po' stancante e poco soddisfacente accettate i cambiamenti con fiducia scorpione giornata un po' sottotono il tono vitale buono ma prevalgono pensieri di evasione più che di impegno nelle questioni che esigono qualche fatica sagittario la vostra carica energetica è frenata da alcune dissonanze astrali che rendono meno efficace anche la comunicazione con gli altri sorprese in amore capricorno periodo intenso nelle questioni di famiglia nella conduzione familiare della quotidianità mentre si illumina la capacità di creare sinergie in ambito lavorativo acquario fase astrale che elargisce opportunità e conferme state vivendo un momento dorato nel quale potete appagare i vostri desideri e sognare traguardi importanti pesci mercurio sole e nettuno nel segno caratterizzano questo periodo che sollecita idee e creatività rendendovi ricettivi e aperti ai contatti a nuovi modi di vivere la realtà buone stelle